Come mi va il raffreddore, Vivian? Insomma, ora si sta guarendo, ora lo sciroppo stamattina me l'ho preso. Come l'ho preso alle 5, così mi è uscito un sorta di mormo, non so quel mormo che... E mo' stasera mi prego l'occhi, così domani mattina mi prego lo sciroppo e poi semmai mi porto in una bustina quando è sottardi me la prego, oppure prima di mangiare mo' vedo. E niente, per mo' mi sta andando tutto bene perché mi disse la dottoressa che tra lo sciroppo e l'occhi mi sono guarita di tutto, sì. Sì, però la tosse ce l'ho ancora, purtroppo è l'aria che va in giro, Viviana. Non vedi, la sera, questa sera faceva freddo, ieri sera pure. E stamattina, la mattina vado con la maglia a sbracciare, però la sera mi metto la giacca. E quest'anno non mi lascia a piedi il raffreddore, è l'aria che apporta così. Purtroppo ci devo stare attenti, che la dottoressa disse che ti può venire pure una bronchita così, sperando di no.